Salve a tutti, sono Brian Fari e benvenuti in questo nuovo Bitrate. Una settimana fa, dalle pagine di Famitsu, Nomura ha rilasciato un'intervista proprio dopo l'intervento che fece al concerto di Osaka, per l'appunto il concerto del 30 novembre. L'intervista uscì il 10 dicembre, prima però dell'uscita sia non ufficiale sia ufficiale del trailer di Remind, quello poi ufficializzato con lo State of Play. Sto riportando adesso quest'intervista perché comunque fa parte di uno spaccato delle informazioni rilasciate da Nomura, però per l'appunto con la consapevolezza che questa intervista è stata rilasciata prima del rilascio, a prescindere del trailer, ma dopo le informazioni rilasciate al concerto di Osaka. Per l'appunto la fotomod, il data greetings, il fastpass, il black code, ne ho parlato in un video apposito. Ok, sono domande e risposte, un intervistatore è Nomura che risponde. Cominciamo. Domanda. Quindi sei venuto al concerto e hai rilevato direttamente alcune info, perché hai fatto una cosa del genere? Risposta. Guarda, non era pianificato che io ci fossi, volevo che Irino, il doppiatore di Sora, giapponese, dicesse il messaggio, oppure Hazama, Ichiro Hazama, producer di diversi titoli square. Ma visto che era una richiesta strana, non ci sono stati i giusti preparativi. Ogni volta che ho provato a scrivere le spiegazioni come messaggio, ho realizzato che sarebbe stato meglio se fosse venuto e l'avessi detto direttamente io. Domanda. Nelle serie di Kingdom Hearts non erano ancora presenti delle modalità del genere, la fotomod, queste qui. Sembra come se avessi ricevuto molte risate venire dal pubblico, come se avessi avuto delle persone che ridevano dal concerto. Risposta. Il trailer di dicembre mostrerà nuove scene di battaglie ed eventi, che saranno aggiunte alla serie, è il trailer che abbiamo già ricevuto. Quello di cui ho parlato al concerto non sarà in questo trailer. Le scene non sono state aggiunte, se no la gente sarebbe stata confusa vedendo la fotomod, pensando che sarebbero state scene del Remind. In poche parole, non hanno messo la fotomod e queste cose nel trailer che abbiamo già visto, perché se no la gente avrebbe pensato che quelle sarebbero state scene del Remind. Nomura ha mostrato al concerto la scena del 358, e magari la gente avrebbe pensato, ma scusa allora c'è il 358 Remind. Per evitare questa confusione, in quel trailer non hanno mostrato queste aggiunte. Domanda. Sembra che i fan siano hypati per modalità così. Senza dubbio. Ride. Ho avuto molte richieste, come voglio fare ciò con questo personaggio. Oppure, e lì voglio entrambi nel background. Io ho spiegato che la fotomod permette una grande varietà di scatti che si possono prendere in game. Domanda. Le persone che giocano alla serie di Kingdom Hearts tendono a voler ricordare, sorridendo, molti di questi momenti. Risposta. Purtroppo anche con l'aggiunta della fotomod non potremo incrementare il limite delle foto salvate per via del limite dei dati. C'è un motivo per la quale le foto, come in Kingdom Hearts 3 e anche in Final Fantasy 15, sono limitate, perché vengono incrementate all'interno del salvataggio, che già è di dimensioni abnormi. Quindi si dovrebbero salvare solo le foto che piacciono davvero, eh? Andando avanti, parlando del menu premium e del Fast Pass e del Black Code, cosa ti ha fatto creare ciò? Risposta. Volevo originariamente creare una modalità più difficile della critica, prendendo ispirazione da Bushido Blade, un titolo di Square del 97, un picchiaduro, dove c'era una modalità che ti permetteva di cambiare dei parametri e i nemici potevano ucciderti con un colpo solo. Ride l'infame. Ah, Bushido Blade, quanti ricordi! Bushido, Bushido, Bushido. Ma capi presto che era una modalità impossibile da portare a termine. Quindi dissi, farò così, così ognuno potrà sistemarlo a suo piacimento. In quel modo, il giocatore potrà sistemare il gioco ad un grado di difficoltà godibile e divertente per loro stessi. Risposta. Domanda. Cioè, risposta alla domanda che crea una domanda. Quindi se qualcuno si sente molto sicuro, può settare la difficoltà con i nemici che mua sciottano? Mamura, quella era l'idea, ma ho deciso di non esagerare. Ma ho fatto sì che non si possa davvero mettere tutto al massimo, a meno che non si abbia una grande confidenza nelle proprie capacità. Cioè, si potrà mettere tutto, tutti i limitatori, all'estremo, ma bisognerà essere davvero sicuri di sé per portare a termine questa modalità. Domanda. È stato difficile finirlo anche per lo staff di sviluppo? Nomura. Siamo nel mezzo delle bugging attualmente e abbiamo fatto molti miglioramenti affinché il gioco non sia proprio impossibile. Ho visto molte persone avere difficoltà anche a principiante ed è per questo che abbiamo inserito il fast pass. Con quella un giocatore potrà godersi la storia anche senza preoccuparsi del combattimento. Ma lasciatemi dire questa cosa. Trovare il giusto equilibrio è molto difficile e quello che è facile per me, per voi, non è detto che sia facile per gli altri. Domanda. Sarà possibile accedere al premium menu mentre si è in gioco o bisognerà tornare al menu iniziale? Nomura. In gioco. Anche se ci saranno alcuni momenti nella storia nella quale non sarà possibile accedervi. domanda. Per esempio, se si è in critica ma si percepisce che è troppo difficile, sarà possibile accedere al fast pass e limare leggermente la difficoltà? Corretto. Si potrà modificare come si vuole. Quindi si potrà anche, crunk hanno utilizzato come termine, la difficoltà di critica modificando alcune cose oppure portarla all'estremo. Ultima domanda. Il trailer di dicembre sarà l'ultimo per Remind Nomura. Sì, il trailer avrà strati e strati layer di spiegazioni e sono felice di annunciare che molti fan godranno della visione di questo trailer. Cosa già successa e già ha portato dubbi e speculazioni e speranze per il futuro. Va bene, come detto è una minima intervista, tra l'altro anche molto in ritardo, però ci tenevo a far sì che fosse presente nello storico delle informazioni rilevate, rivelate e rispazioate sull'immaginario totale di Kingdom Hearts 3 e annessi. Va bene, questo è tutto per quanto riguarda questo video. Come saluto, vi piace, iscrizione, like, condivisione. Nel caso gruppo Telegram per informazioni in tempo reale. Spread the knowledge che è sempre la cosa più importante. E noi ci vediamo al prossimo video!